E' un piacere ritrovarvi, grazie a Cristina, grazie a Markup e grazie per continuare a invitarmi puntualmente ogni anno. Un tema fondamentale, perché stamattina ti ho ascoltato, ho ascoltato tutti gli illustri colleghi con grandissimo piacere, e secondo me mi invitano per abbassare le aspettative. Perché quando si volano così alti, dove pensate o pensiamo di poter andare? E quindi chiamo qualcuno che è a servizio di un pezzettino del sistema paese, che è Confindustria. E' proprio perché partiamo da questo presupposto. Ho provato a mettere giù un po' di numeri, ma con una logica completamente diversa dai colleghi che mi hanno preceduto. E volevo con voi condividere giusto una panoramica di dove stiamo andando proprio in termini di paese. Provate a vedere che cosa sta succedendo. Noi non siamo un paese patriottico, come i francesi, che sono così attenti al loro marchio, alla loro immagine. Noi siamo sempre quelli che parlano male di se stessi, dalla mattina alla sera. Stiamo facendo più 0,9 di PIL. La Meloni, durante la nostra assemblea qualche giorno fa, l'assemblea di Confindustria, ci ha detto che probabilmente entro la fine dell'anno riusciamo addirittura a raggiungere un punto. Siamo il paese che è cresciuto di più rispetto a tutti gli altri paesi europei. Però tutta questa crescita, questa corsa, questa curva così complessa che abbiamo vissuto negli ultimi anni dell'economia, dove ci sta portando? Ci sta portando semplicemente al 2008. Cioè noi stiamo correndo per raggiungere i numeri che facevamo ex ante crisi del 2008. Poi abbiamo i tassi in discesa, l'inflazione è scesa un anno fa, era al 15%, dobbiamo ricordarcelo. Consumi familiari non sono male. Bello anche il dato dell'occupazione. Siamo al 6% di disoccupati, cioè praticamente da quando è nata la Repubblica non abbiamo mai avuto un dato simile. Abbiamo una crescita degli stipendi di 4 punti che dice ma è poco, è poco, è vero, è meglio di altro. Perché se confrontiamo questo dato con i danesi che hanno più 30, è chiaro che è un dato poco felice. Però attenzione, c'è un altro dato straordinario, ma straordinario in senso dato. Ci sono 2 milioni di ragazzi, più o meno sono tra i 18 e i 34 anni, che non si sa che cosa fanno e che non vengono riconteggiati nella quota né dei disoccupati né degli inattivi. Sono una roba a sé stante. Andrebbe un attimo visto questo numero. Però dobbiamo ricordarci, proprio perché dobbiamo imparare a essere fan di noi stessi in termini di paese e mai delle nostre idee. Siamo la seconda manifattura in Europa e ragazzi, siamo la quarta economia al mondo in termini di esportazioni. E questo è un dato che dobbiamo necessariamente ricordarci. Perché il marchio made in Italy è una roba che noi dobbiamo difendere. Quando noi parliamo di autonomia differenziata, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, potete immaginare la posizione di Confindustria. attenzione, io non mi aspetterò mai, io non mi voglio mai aspettare un made in Campania o un made in Lombardia. Perché l'autonomia è differenziata. Potrebbe anche voler dire questo. Quindi attenzione a questo passaggio. Un dato generale sui vostri mercati. Alla fine sì, viviamo momenti di stagnazione per alcuni canali, però abbiamo un canale di supermercato che sale di quattro punti, discount che salgono, ma non come in passato. E poi questi ragazzacci del drag che fanno numeri davvero straordinari. Occhio, perché stamattina si parlava di attenzione al consumatore, attenzione anche all'andamento di quello che il consumatore vuole o vorrebbe avere. il dato della frutta e della verdura, 3.4, il pane. Quando sale il pane però, attenzione, c'è un secondo tema che dovremmo andare un attimo a rivedere. Vuol dire che c'è un'attenzione al basico della spesa. E poi c'è questo dato riconfermato, casa e persona che volano. Di fatto però, e l'abbiamo sentito questa mattina, in termini di predizione non sappiamo più che cosa inventarci, perché oltre a noi stessi, l'intelligenza artificiale, di cui poi vi dico un po' la mia, e la ricerca, il CRM, il pricing, tutte le piattaforme del mondo, anche per il finanziario, adesso c'era una collega che me ne parlava proprio intorno a un caffè, e voi della GD, della DO, siete protagonisti, lo sarete sempre di più anche da questo punto di vista. Però la predizione, ragazzi, è una roba così vecchia che ci ha portato fino adesso. E qui ho rubato delle slide a me stesso. Nel 200 a.C., immaginate, c'era questo signore, scusatemi il nome, era Tostene, e si chiamava così, un filosofo greco, che fu coinvolto, a cui fu chiesto dal ressore, ammesso che fosse un'entità tangibile, di verificare il numero delle vacche sacre, perché c'era Ulisse che tornava dalla guerra ogni tanto e si mangiava tutte le vacche che stavano in giro, e ovviamente il ressore, il senato imperione, si innervosiva abbastanza. Poi c'era Federico II di Svevi, stiamo parlando del 1200, non vi è nulla al mondo che non possa essere rappresentato da un'equazione, e vogliamo parlare di Nostradamus, e meno male che le ha sbagliate, la gran parte delle sue previsioni, perché poi c'è da dire, che anche questo signore ne ha scritte tante di previsioni, alcune veramente se ne sono sbagliate. Napoleone Bonaparte, questo prima di andare in guerra o in battaglia, meglio, si faceva un solitario con le carte, e se il solitario andava male, era finito, era meglio non presentarsi il giorno dopo. Mario Draghi, questa è una delle previsioni più belle, più realistiche, che fa il paio con quanto abbiamo sentito questa mattina, soprattutto dal CFO di Conad, mi pardonerà il collega, non ricordo il cognome, che è una roba serissima, perché Mario Draghi, che cosa ha detto all'Europa? Signori, la transizione ecologica, la transizione digitale, costa un sacco di soldi. Ci vogliono 800 miliardi per cinque anni, 800 miliardi all'anno per cinque anni. Di fatto, che cosa ha fatto Mario Draghi? Ha previsto una crisi e sta dicendo, prima degli altri, attenzione. Però prevedere una crisi è tanta roba. C'era il magnifico rettore dell'Università di Bari, che spessissimo racconta che crisi viene dal termine greco, dal verbo greco crino, che vuol dire scelta, cioè scegliere, si usava in agricoltura i tempi dei Greci, per scegliere i chicchi di grano rispetto alle spighe. Ricordatevi anche, ricordiamoci, che le cattive previsioni portano a questo risultato. Il PIL nel 2008, in America, viaggiava a due cifre positive. C'è un bellissimo libro, ma ne abbiamo già parlato, di Fit to See, che si chiama, se non ricordo male, Contare ciò che conta, che ci dice che il PIL non rappresenta il benessere del Paese. E questa è la dimostrazione, perché con un PIL a due cifre, le mambrade salta a 2008, è una roba che vi ricordate tutti quanti voi, una distruzione sul sistema. Ma c'erano anche questi signori, questi signori che adesso però sono usciti con un fondo nuovo dietro. Quando qualcuno è andato a raccontargli che c'era la possibilità di buttare giù un progetto sugli smartphone, dissero no, grazie, noi siamo i leader di mercato, non ce ne facciamo niente, sono spariti dal mercato per vent'anni. E poi ci sono esempi come disastrosi, altrettanto disastrosi, come questi marchi che ricorderete. Però ricordiamoci che la crisi porta puntualmente a delle rivoluzioni, sempre straordinariamente positive. Tra cui le quattro, tre ufficialmente, ma la quarta ve la aggiungo io, rivoluzioni industriali, il primo telaio a vapore, stiamo parlando del 1780, 1880, 1870, la prima catena di montaggio, i primi computer nel mondo industriale, 1970, eravamo appena usciti da un'altra crisi. Voi siete, la maggior parte di voi, molto giovani, ma per alcuni di noi è un ricordo fisso nella testa quando non potevano girare tutte le macchine la domenica, si poteva girare a targhe alterne, non c'era lo zucchero, non c'era il sale, venivano utilizzati gli zuccheri non raffinati che adesso sono diventati, diciamo, un plus, ma di fatto quello era. Ma oggi, signori, attenzione a questa roba, siamo di fronte alla quarta rivoluzione, industriale, solamente industriale, io penso che sia una rivoluzione per l'intero paese. Interconnessione, big data, mondo digitale, intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato a non finire questa mattina. Però guardate gli investimenti, Europa 20 miliardi, Cina 100 miliardi, gli americani 300 miliardi. Però poi, pensandoci un attimo, anche perché ho apprezzato tantissimo Beatrice Ramazzotti, perché ha fatto un passaggio molto calato sull'argomento, in termini proprio pratici. L'intelligenza artificiale, non le possiamo fare a meno, non la fermeremo, c'è una canzone di Battisti, come può uno scoglio arginare il mare, quindi che cosa dobbiamo arginare? Possiamo regolamentarla, però. attenzione anche però che l'intelligenza artificiale non sarà intelligenza artificiale finché non impara a fare domande, perché adesso sa dare solo risposte su roba che noi stessi abbiamo inserito lì dentro in quel sistema. Quindi, occhio anche a non sopravvalutarla, come anche sento parlare di intelligenza artificiale nelle nostre aziende, nei nostri mercati, ma siamo sicuri di essere pronti solo a parlarne? Quindi, un pensiero lo facciamo da questo punto di vista e facciamolo anche da un punto di vista sociale, perché poi c'era anche un altro collega relatore che ha fatto un altro passaggio molto interessante, l'intelligenza artificiale sopperirà a una serie di posti di lavoro. Benissimo. Chi va via che cosa fa domani mattina? Va a carico di quale sistema sociale? pensiamoci, perché il problema esiste, perché noi abbiamo un paese dove paradossalmente, soprattutto alcune aree del nord-est, hanno bisogno addirittura di un sistema di migrazione controllato. quindi benvenga l'intelligenza artificiale, ma siamo convinti che le unità, le risorse che vanno via e che perdono posto di lavoro siano esattamente sovrapponibili a quelle recuperate o recuperabili dall'intelligenza artificiale e viceversa? o manderemo a casa un sacco di persone come la tematica derivante come per la tematica derivante dal Green Deal altra follia europea e qui me ne scuso perché so che molti di voi non saranno d'accordo ma questo è il mio pensiero non solo mio ma anche di Confindustria non è immaginabile passare una transizione Green in così pochissimo tempo questo vale anche per i motori a scoppio perché è un'assurdità immaginare oltre la moda che un veicolo a prescindere dal tema italo-telesco perché è anche francese noi siamo un siamo paesi che hanno vissuto di automotive per sempre stiamo regalando l'automotive ai cinesi perché le batterie le fanno loro i computer le fanno gli indiani le carrozzerie al limite le assembliamo i 75.000 operai italiani cosa faranno quelli che fanno i pistoni e le catene di distribuzione o i cilindri delle nostre auto poi è anche vero che quell'auto in quel posto non inquina è vero è un dato rifatto ma la produzione di quell'energia per far camminare quell'auto è inquinante perché funziona a idrocarburi esattamente come una macchina scoppio solo che il problema non è europeo stiamo andando a inquinare una parte del mondo che magari ci sfugge dalla mente e abbiamo risolto la maggior parte dei nostri problemi teniamo a mente una roba di questo genere però attenzione vi faccio un'altra provocazione come quella che vi feci non mi ricordo se in questa sede o nella versione barese del retail summit quando vi parlai di concentrazione dei cedi sembrava un'eresia io sono convinto che ci si debba arrivare anche la concentrazione delle società delle insegne e del sistema ma i cedi in termini logistici vanno concentrati e finalmente se ne sta parlando questa invece è una nuova provocazione ed è ancora più facile da portare a casa voi della gd e della dio siete la nuova avanguardia del sistema sapete ma perché ci stai facendo questa domanda le palette io non ce le ho anzi devo dire a Cristina che l'anno prossimo se Dio vuole che mi inviti come amministratore delegato di prima media e non come rappresentante di Confindus così potrò parlare anche di attività del nostro gruppo sapete quante banche dicono gli uffici postali hanno chiuso dal 2014 ad oggi guardate qui 13.000 punti di vendita come li vogliamo chiamare chiusi il 25% dei comuni oggi in Italia è scoperto dai centri servizi chi è secondo voi il futuro centro servizi italiano siete voi siete sul 100% dei comuni perché non non vi attrezzate oggi alcuni di voi l'hanno già fatto ma una netta minoranza oggi sentivo parlare dal collega di Retex cerchiamoci un manager per l'intelligenza artificiale cerchiamoci un manager che si occupi dello sviluppo dei sistemi e anche dell'intelligenza artificiale ma non dimentichiamoci anche retail media perché fermo restando i pillar che sono necessari a portare avanti tutto questo sistema di retail media magari ne parleremo in un'altra occasione centro servizi retail media vi porta un margine di primo livello tra il 40 e il 50% ma voi dite è un pezzettino certo ma di sicuro in un mercato che è abituato a ragionare con lo zero davanti e speriamo solo uno zero dopo la virgola ma di che cosa stiamo parlando poi c'è da dire un'altra roba anche qui questa mattina lo stesso Kaufman la stessa buonsignore la stessa Bonifazi hanno parlato di quello che si aspetta il consumatore perché il consumatore oggi si aspetta una centralizzazione dei servizi però si aspetta anche una determinazione di quello che volete fare e su come la pensate su questi argomenti che sono l'ambiente inclusione innovazione diversità poi arriveremo come qualcuno già sta facendo a mettere in pratica questi valori ma almeno iniziamo a dire come la pensiamo pensiamo a iniziamo a immaginare punti di vendita che ci spieghino qual è la vostra posizione anche anche da questo punto di vista sono stato assolutamente nei tempi però volevo chiudere facendovi vedere un filmatino che puntualmente mi devo andare a cercare ogni anno per per tenervi un po' svegli perché poi soprattutto dopo pranzo la crisi dei primi dieci minuti è una crisi seria soprattutto per i vecchioni come me e e vi voglio far vedere un filmato sperando che nei vostri punti di vendita questi signori possano meravigliarsi esattamente come si meravigliano in quello che vedrete o jazzy grazie alla prossima